Tanto tu no che piove, come a dire tutta colpa degli altri di una sorta di terrorismo psicologico attuato da alcuni concittadini, tra cui alcuni consiglieri comunali di opposizione. I movimenti a sostegno della maggioranza guidata dalla sindaca di Oria Maria Lucia Carone se la prendono un po' con tutti, con chiunque abbia messo in atto un'azione mistificatoria senza precedenti. I riferimenti ovviamente sono la convenzione tra pubblico e privato circa il destino del castello di Oria, convenzione naufragata dopo che la borgo lucale domenica mattina ha scaricato lo stesso comune con una PEC. Il risultato? Il maniero che resta chiuso per il momento, ma anche secondo la maggioranza la condanna di un'intera città per mano di una parte politica miope e vendicativa. E infine sul banco degli imputati c'è finita anche la nostra trasmissione linea diretta in cui secondo la tesi della maggioranza si sarebbe sparlato della convenzione costringendo la sindaca a una sorta di uno contro tutti. ecco, dopo che la borgo lucale ha scaricato il comune, noi chiediamo all'amministrazione che si è negata nelle settimane e nei mesi successivi, siete davvero sicuri che la colpa in questa vicenda sia sempre degli altri?